Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La famosa showgirl Elisabetta Canalis, nota per la sua partecipazione come velina a striscia la notizia, ha recentemente divorziato dal marito Brian Perry, con cui ha avuto la figlia Skyler Eva nel 2015 a Los Angeles. Attualmente, sembra che la bella showgirl abbia ritrovato la serenità accanto al nuovo compagno Georgian Cimpanu, campione di kickboxing e ex allenatore di Canalis. Ma sarà questo il preludio a un nuovo matrimonio? Un'immagine sui social network fa pensare a un possibile e imminente matrimonio. Dopo un periodo di pendolarismo tra Italia e America, Elisabetta Canalis e il suo compagno Georgian Cimpanu hanno deciso di andare a convivere a Los Angeles, per permettere alla piccola Skyler di vedere facilmente il padre. Le cose sembrano andare a gonfie vele per la nuova coppia e un indizio sui social network lascia supporre un prossimo matrimonio. Recentemente, Canalis ha condiviso su Instagram una foto che ha suscitato l'entusiasmo dei fan, un cartellone pubblicitario che promuove matrimoni lampo a Las Vegas. Poiché i VIP raramente pubblicano cose a caso sui social network, i fan della showgirl hanno subito ipotizzato che questa foto potesse essere un segnale di un imminente matrimonio con il compagno. Allo stesso tempo, c'è chi pensa che Canalis abbia voluto lanciare una provocazione al compagno, invitandolo a fare un passo avanti. Al momento, tutto rimane nel campo delle ipotesi, poiché non ci sono conferme ufficiali riguardo a un possibile matrimonio. Se davvero i due decideranno di sposarsi con una cerimonia lampo, sicuramente Elisabetta lo farà sapere ai suoi follower. Negli anni, Elisabetta Canalis è stata al centro della cronaca rosa per i suoi importanti legami amorosi, da Christian Viri a George Clooney fino al suo attuale compagno, Georgian Cimpenu. La showgirl sembra aver trovato la felicità accanto a lui, ma resta da vedere se questo porterà a un nuovo matrimonio. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Grazie a tutti.